Ci troviamo nel cuore della Cernatown milanese e dietro di me questa via Nicolini che per oltre 20 anni è stata considerata la via delle belle motociclette questa invece è via Foravanti e proprio qui sull'angolo in questo negozio nel 1984 tre amici fondarono la numero 1 della numero 1 sono rimaste solo le tende, le vedete ancora là in fondo, sono davvero dure a morire parliamo di numero 1 di Carlo Talamo con Max Brun nella puntata numero 9 di due cilindri magro eccole qua dietro di me sono ancora qui dopo tanti anni vedete e poi lì il mitico baretto della Teresa adesso hashtag caffè